C'erano una volta due bambini che si chiamavano Sploff e Proz. Tanto tempo fa avevano fatto il giro del Giappone, un paesino in provincia di Cuneo in bicicletta. Purtroppo erano morti, però era stata proprio una bella avventura. È stata proprio una bella avventura! Sploff e Proz avevano un amico migliorissimo che si chiamava Zurgo. L'altra volta Zurgo avrebbe voluto fare il giro del Giappone con Sploff e Proz, ma sfortunatamente il suo lavoro di inventore di forchette glielo impediva. Dispiace che tu non puoi venire con noi, Zurgo! E voi chi siete? Fuori da casa mia! Quindi quando gli facevano vedere le foto di il Giappone, lui era triste. E qui è quando abbiamo visto due cani. Andate via, vi odio! Sploff e Proz volevano tanto fare un'avventura simpatica con Zurgo. E anche lui lo voleva. Non è vero, li odio. In fondo al suo cuore lo voleva proprio. Ho detto che li odio e vorrei che morissero. Così a Proz venne un'idea. Di notte lui e Sploff fecero uno scherzo super simpatico a Zurgo. Zurgo vide che cosa avevano fatto. Ti ha bruciato il mio laboratorio. E ne fu molto felice. Sorpresa! Siete pazzi, chiamo la polizia. Finalmente potevano fare un simpatico viaggio tutti e tre insieme. Yeee! Ah! Fecero una riunione simpatica. Zurgo, quali sono le tue cose preferite? Riportatemi a casa subito. Ti piacciono gli orsi, la lava e il campo magnetico terrestre? Cosa? Conosco il posto perfetto! Il circolo polare artico! Il circolo polare artico era un circolo in provincia di Cuneo dove c'erano i vecchietti che giocavano a briscola sulla lava, usando gli orsi come tavolo e chi vinceva si aggiudicava un campo magnetico. Asse di bastoni! Drago bianco, occhi blu! Sploff e Proz e Zurgo fecero il giro di questo circolo. Ci misero due mesi perché erano scemi. Vissero molte avventure, ma le più simpatiche furono quando per sbaglio versarono una balena in faccia a Zurgo. Quando mangiarono un sasso appena sfornato. Mmm, crosta terrestre! Quando un orso sparò con un coltello a Zurgo. Ecco poi basta. Anche questa è stata proprio una bella avventura, abbracciamoci! Vi voglio bene amici! Verso dell'amicizia. Fine. Ciao amici, sono Sio e insieme a Lorre e Nick vado a fare un'altra avventura il 6 luglio. Prima andiamo in Svalbard, poi biciclettiamo in Islanda e alla fine controlliamo se la Groenlandia esiste. Questi sono gli amici che verranno con noi e che poi vi spieghiamo meglio. Comunque intanto li ringraziamo perché sono belli e quindi presto ricomingeranno i vlog di viaggio sul secondo canale. Importante, se volete sponsorizzare uno dei nostri vlog, mangiare la lava è molto più costoso di quanto credessimo, mandateci una mail a uncommonstories.gmail.com Questo è un esempio tipo se vendete le mele gialle e volete sponsorizzarci. Ciao amichetto! Ciao! Conosci mele gialle? No! Fine! Ah, dannazione! Vabbè, non importa. Allora sarà per la prossima volta. Se lo incontri per strada saluta. Quindi, se volete seguire i nostri viaggi, iscrivetevi al mio secondo canale, attivate le notifiche e se invece volete aiutarci con una sponsorizzazione, inviateci una mail. Ciao! Grazie! 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 Grazie!